Per Milano intenderanno loro che vai a Torino e a Torino a Milano. No, no, allo piccolo Bertolino, io gli ho fatto segno, devo andare di qua e di là, e lui mi ha detto dove vuoi, e io ho preso per Milano. Cioè, hai preso per Zinua? Carpa, carpa, per Zinua. Allora, tu sai che si trattava un arrivato di servizio, faceva una meglio cosa oggi. Allora, a me la caravolo è vittorato, mannaggia miseria. Allora, ma voi, grandi del cominciato, qualcun'è un'ora a me, perché non si può finire qualun'ora. Allora, sono parte, ne scuola o no? Sì, a te me le mani un camion che cammina, è quasi d'altro, c'è. Guido! Oh, dimmi! Allora, a te me che è stato sul pala mia, dite sepperti l'ugna. Allora, a te me che è stato sul pala mia, dite sepperti l'ugna. Allora, a te me che è stato sul pala mio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.